La prima volta che sono entrato in questo domatoio era a boio. E c'erano persone che non avevo mai incontrato, ognuno di loro sta cercando qualcosa nella vita. Alcuni sono persi, alcuni hanno perso così tanto in loro stessi. Che hanno smesso di cercare. Ma forse fuori c'è qualcosa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.